In Commissione Bilancio, con voto unanime, è stato approvato un emendamento presentato dal consigliere Cortelazzo che tenta di sbloccare i soldi fermi nelle casse regionali per colpa del patto di stabilità nazionale. Il testo prevede che le somme possano essere anticipate da una società di factoring o da un istituto bancario per la copertura dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dagli enti locali nei confronti della regione per il finanziamento di spese di investimento. Questo emendamento va nella direzione che la regione del Veneto si coaudiva di società di factoring che acquistano il credito che ha il Comune, il Consorzio di Bonifica e il Consorzio di Bonifica, lo pagano, lo liquidano per cui il Comune e il Consorzio di Bonifica libera questa partita dal proprio bilancio e quei soldi che anticipa la società di factoring hanno ovviamente un costo di interessi e gli interessi li paga la regione del Veneto. L'operazione permetterebbe di sbloccare circa 160 milioni di euro destinati ai consorzi di Bonifica e agli enti locali per lavori pubblici e infrastrutture. I soldi a cascata dovrebbero poi entrare nelle casse delle imprese. Certo, poi arrivano ai Comuni e i Comuni pagano le imprese. Se pensiamo che bisogna fare questo tipo di percorso tortuoso avendo 1 miliardo e 300 milioni di euro in tesoreria qualcuno pensa a uno Stato che è alla deriva e folle e schizofrenico. Purtroppo lo è. Con il voto unanime in Commissione la strada per l'approvazione dell'emendamento in Consiglio è spianata. Bisogna però restare cauti. Il problema infatti resta a Roma. Il governo può impugnare la norma per illusione del patto di stabilità bloccando di fatto tutto il processo.